Piccoli spiragli, ma veramente piccoli, si cominciano ad intravedere sulla spinosa e gravissima crisi che ha investito la città di Gela dopo la chiusura della raffineria dell'Eni. Piccoli spiragli che non possono però indurre all'ottimismo, ma che una riflessione seria e concreta la inducono a fare. Intanto, le rassicurazioni dei vertici dell'Eni sugli investimenti nel sito di Piana del Signore e la conferma che il colosso del Canasseizampe non ha intenzione di mollare questo territorio. Si dirà che sono parole non fatti, in realtà però non è proprio così, perché la scusante adotta da Eni sul motivo che ha impedito finora l'azienda energetica più importante del Paese Italia di realizzare i suoi progetti a Gela è disarmante e allo stesso tempo inappellabile, ossia il colpevole ritardo del Governo nazionale di quello regionale nel rilascio delle autorizzazioni. E qui si apre il dibattito sulle gravissime responsabilità politiche di chi a Roma, come a Palermo, continua a non rendersi conto della pesantissima situazione sociale ed economica che questa città sta vivendo da quell'oramai lontano 6 novembre 2014, quando cioè fu firmato il protocollo di intesa che esanciva la fine della raffinazione del petrolio allo stabilimento di Gela e si decideva al contempo la riconversione di un'area industriale che per oltre 50 anni è stata l'unica fonte di reddito di una intera collettività di 75 mila abitanti. Roma dà le colpe a Palermo e Palermo le rimanda al mittente, un batti e ribatti tra Renzi e Crocetta che ha messo alle corde una intera città. Gela in mezzo ad una diatriba tutta di marca PD che ha superato ogni limite di sopportazione. Ma dicevamo dei piccoli segnali di positività, a volte anche impercettibili tanta e tale la crisi che vive Gela. Lo sblocco, ad esempio, è finalmente della cassa integrazione per gli ex lavoratori della SMIM, un colossale ritardo che la settimana scorsa aveva portato l'operaio Matteo Guerreri ad una protesta clamorosa, poi per fortuna rientrata dopo che si era barricato per 36 ore su un pontone del cantiere della SMIM. Piccoli segnali, ma serve l'intervento forte della politica, di una politica che su Gela sia una volta per tutte coesa, unita alla ricerca della soluzione dei tanti problemi che attanagliano questo lembo di Sicilia. Ed il PD, inutile nasconderlo, ha le maggiori responsabilità in tutto questo, sia perché governa a Roma e a Palermo, sia perché ha governato a Gela per 22 anni e fino allo scorso anno, fino cioè alla firma del fantomatico protocollo d'intesa che ha condannato a morte l'industria gelese. Di tutto questo si è parlato ieri sera da Gorà, il rotocalco settimanale della nostra emittente ha ospitato il segretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina, che ha confermato la linea che il maggior partito di Gela farà opposizione costruttiva all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Messinese, ma che sulla vertenza Gela non possono esserci divisioni di sorta. Assieme al numero uno del PD gelese, in studio il vice sindaco ed assessore con delega all'industria del Comune di Gela, Simone Siciliano, quindi il segretario confederale della UIL, Maurizio Castania, e l'ingegner Fabrizio Lisciandra, che è stato consulente per conto della Presidenza della Regione Siciliana nella stesura del protocollo d'intesa firmato al Mise lo scorso 6 novembre del 2014. Chi volesse rivedere questa ennesima interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 e dalle prossime ore sui nostri indirizzi social. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per parlare come sempre di temi che riguardano Gela e di Gelesi.